Musica Cordiale saluto, buongiorno a tutti voi, benvenuti cari telespettatori alla nostra rassegna stampa del mattino quella delle 7.30 che si apre in diretta, poi con le repliche che si susseguiranno nel corso della giornata fino alle 13.30 con vari appuntamenti tra cui anche la replica del telegiornale allora partiamo dal santo del giorno, lo vediamo con l'aiuto della grafica oggi è Sant'Alberto Magno Vescovo, il sole sorto alle 7.02, tramonterà alle 16.43 per quanto riguarda il tempo c'è da dire poco, nel senso che il tempo sarà per la giornata di oggi perturbato poi nel corso del fine settimana migliorerà andiamo invece adesso a vedere i giornali e cominciamo dal Corriere Adriatico la pagina di Fano, la cronaca 4 intossicati e 10 evacuati entro 48 ore l'immobile sarà agibile fiamme nel condominio la causa di un cortocircuito per eccesso di consumi o infiltrazioni d'acqua all'hotel Metauro chi non ha un alloggio alternativo sono stati alloggiati dunque lì nella notte intervenuti anche l'assessore Barnesi e poi il sindaco Seri dunque altre 48 ore poi i condomini di via Oracci 22 potranno rientrare nelle loro abitazioni picchia sangue la moglie invece l'altra pagina da Sasso Corvaro Corvaro aggredisce anche i carabinieri un operaio magrebino è stato arrestato processato e allontanato da casa con l'obbligo della firma moleste sessuali psichiatra a giudizio accusato di atti con un ragazzino che all'epoca dei fatti aveva 13 anni ed era un suo paziente l'avvocato dice il mio cliente nega i fatti non c'è la prova il medico ha denunciato per abusi nelle indagini 2 pm ma la procura aquilana chiede l'archiviazione la pagina di Fano tre obiettivi abitabilità, innovazione e valore sociale entro l'anno piano strategico pronto per approvare nel 2018 il nuovo piano regolatore generale poi sempre dalla cronaca di Fano la pagina di Fano del Corriere passaggio con il rosso respinti tutti i ricorsi da prefetto e giudice di pace scelte concordi sulle infrazioni sanzionate dalle telecamere e poi l'altra pagina quella della Valle del Cesano spy cam nei punti sensibili staziati altri 50 mila euro in arrivo 6 nuove telecamere siamo a Mondolfo l'occhio elettronico anche contro i furbetti dei rifiuti le mareggiate dopo il cattivo tempo dei giorni scorsi il litorale divorato dalle onde dopo giorni di maltempo i sopralluoghi dei bagnini che dicono servono interventi immediati Urbino Natale con i fiocchi anche se artificiali tra natività e feste un mese di eventi presentato il cartellone delle iniziative l'albero si accenderà il 2 dicembre e dalla neve finta a quella vera quella che è caduta sul Catria non basta però per sciare il Monte Catria comunque si è colorato di bianco tra lunedì e martedì sono caduti circa 30 centimetri di neve regalando uno spettacolo unico la pagina di Senigallia invece con la cronaca il compleanno della vittima di Mazzoni il suo arresto è stato il regalo più bello dice una delle sue vittime Luxoricida è stato catturato poco prima che la ragazza festeggiasse 23 anni che adesso dice ora mi sento sicura l'arresto del Carlino eternamente in viaggio questo è il titolo della fotonotizia si parla di una coppia di pesaresi che da 15 mesi gira il mondo spendendo 10 euro al giorno mi sembra un po' difficile insomma comunque i titoli a volte non dicono la verità ma comunque 10 euro al giorno per girare il mondo mi sembra che sia davvero impossibile comunque andate a leggere poi vedete Cagli e Shotto Shock invece due morti in pochi minuti alle 8 un malore schianta il barbiere Giuliano Vagnarelli poco dopo se ne va a Orneo Naccari dunque Cagli ieri si è risvegliata con il suono delle prime sirene ieri mattina due morti improvvise hanno profondamente scosso la popolazione quasi in contemporanea tra le 7.30 e le 8 hanno improvvisamente cessato di vivere due personaggi molto conosciuti in città il primo è accaduto in un'abitazione in via Fonte del Duomo dove c'era abitava Giuliano Vagnarelli l'ultimo barbiere di piazza Matteotti è stato ucciso da un malore mentre scendeva le scale il secondo invece qualche minuto più tardi in piazza Matteotti nella rivendita di tabacchi e giornali di Eros Santini dove si è accasciato al suolo un novantenne Oreo Naccheri due personaggi Oreo Naccari Naccari ex professore delle scuole medie allora qui bisogna che il Carlino si metta d'accordo perché qua scrive Oreo Naccari e qui scrive Oreo Naccheri ora io non conoscendo purtroppo il personaggio adesso i Cagliesi sicuramente sanno bene qual è comunque c'è un errore a Pecchio rubano otto conigli pronti per l'arrosto furto per fame nella fattoria Martinelli la pagina di Urbino piovono stelle ducali sarà un Natale luminoso lungo le vie dei presepi presentate le iniziative dal 2 dicembre all'Epifania e poi ancora da Colli al Metauro fusione al Vetriolo l'ex sindaco denuncia gli Aterz tre a giudizio per aver difamato il primo cittadino di Monte Maggiore e questa è la notizia che trovate sul Carlino e poi lo sport siamo sulla pagina di Fano lo sport ha ancora il fiato corto ipotesi antenne sugli impianti potrebbero assicurare le risorse mancanti però ci sono i malumori tra le società l'ultima pagina è quella di Fano con l'incendio che si è sviluppato a San Lazzaro di cui abbiamo parlato poco fa sul Corriere Adriatico noi ci fermiamo qui grazie per averci seguito la rassegna stampa torna domani mattina come sempre alle 7.30 questa sera invece c'è il telegiornale Occhio alla Notizia e questo è il numero per le vostre segnalazioni grazie per averci seguito buona giornata a tutti grazie per averci seguito